il post impressionismo è un movimento storico artistico abbastanza complesso da identificare perché se noi ci attenessimo semplicemente al nome ci verrebbe facile ma è ingannevole ma ci verrebbe facile immaginare che il post sia per un movimento che viene in successione all'impressionismo ma non è così è questo appunto l'inganno che vi accennavo un attimo fa infatti io vi presenterò successivamente in seguito le opere di alcuni degli artisti considerati post impressionisti più interessanti ma sappiate da subito che molti di questi artisti che vi farò etichettare catalogare come artisti del post impressionismo in realtà esporanno insieme agli artisti impressionisti in particolare vi farò conoscere le opere di artisti appunto che prenderanno parte alle mostre impressionisti come vi dicevo ma che funzioneranno un po come avranno un'azione un po da ponte verso quello che accadrà dopo quindi verso le avanguardie storiche che cominceranno nei primi anni del novecento a svilupparsi dal 1905 in poi quindi diciamo che questi artisti complessi di cui ancora non vi ho fatto i nomi serviranno davvero a porre le basi per il nuovo per le novità allora perché chiamiamo definiamo questi artisti o questo movimento di artisti eterogenei tra loro post impressionismo perché appunto questi artisti hanno avuto il coraggio di superare le conquiste che erano state raggiunte dagli artisti impressionisti pur lavorando fianco a fianco o addirittura a contatto proprio esponendo addirittura in tali casi con loro l'opera che vedete qui in sottofondo per la miniatura è un'opera di Paul Cézanne e sarà uno degli artisti chiave più importanti del movimento ma partiamo dall'inizio allora eravamo arrivati qua nel senso che se io vi mostro questo meraviglioso palazzo del parlamento al tramonto di Monet tutti quanti fate una sorta di sospiro d'amore nei confronti di questi di queste luci di questi colori che si riflettono che si riverberano nell'acqua e so che quindi siete completamente appagati dal punto di vista visivo ma anche dalla risonanza emotiva che questi colori generano in noi e allora mi tocca fare la parte di quella scomoda e mi tocca chiedervi ma quanta parte ha nella vostra vita la funzione dell'occhio ciò che con gli occhi vedete ecco possa così la domanda io so già che voi mi rispondereste moltissima l'occhio gli occhi hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita certo dopodiché io vi dico ma provate a riflettere tutta la vostra giornata nel corso della vostra vita i problemi maggiori vi vengono da ciò che entra in voi tramite gli occhi no scuotete tutti la testa con un pochino di sconforto dovete ammettere che sì l'occhio è la porta del mondo nel nostro nella nostra interiorità ma è soltanto appunto una porta e allora esattamente quello che accade in quegli anni siamo alla fine dell'ottocento e i nostri amici impressionisti stavano continuando a esporre nelle loro famose otto mostre l'ultima delle quali è quella del 1886 e cosa succede succede che nella mostra del 1886 jean serat che era questo giovane artista che si era unito al gruppo esporrà la domenica pomeriggio sull'isola della grande jatte che noi chiameremo semplicemente la grande jatte per semplicità ma quando siamo nel 1886 l'ottava e ultima mostra impressionista ma quando espone questa opera accadono due ci sono due reazioni importanti la prima Monet diciamo che vi dirò si infuria nel senso che davanti a un'opera come questa diceva questo non ha nulla a che vedere con l'impressionismo e non aveva tutti i torti il nostro buon Monet l'altra reazione importante invece è quella che che ci propone un critico d'arte e critico letterario molto importante francese che si chiamava Féli Fénéon che vi mostro nel ritratto che gli dedicherà Paul Signac che è un altro degli artisti post impressionisti di cui vi citerò il nome tra un attimo allora questo Féli Fénéon davanti all'opera della grande jatte aveva parlato di neo impressionismo mi sembrano tutte delle definizioni forse un pochino scolastiche invece no perché se nell'ultima mostra impressionista ricordiamoci che l'impressionismo aveva avuto appunto otto mostre 1874 1886 era molto giovane come movimento ma se nell'ultima mostra quella dell'86 un critico osa dire che siamo davanti a una opera di neo impressionismo in sostanza sta decretando la fine dell'impressionismo sta dicendo che sta già succedendo qualcosa di nuovo e questo è significativo e importante tra l'altro per vostra conoscenza sappiate che Féli Fénéon oltre a essere vi dicevo critico d'arte forse la figura del primo critico d'arte di battaglia come dire che si mette in prima linea che cerca di organizzare mostre di giovani artisti in cui crede sarà lui che organizzerà la prima mostra retrospettiva di Van Gogh nel 1901 ad esempio ma sarà anche un critico letterario vi dicevo e in particolare scriverà in senso favorevole di autori come Proust come Rimbaud come Verlaine quindi davvero avrà un ruolo fondamentale ma ve lo ricordo così magari potete fare i vostri collegamenti anche con storia e non solo anche perché il nostro Féli Fénéon era apparteneva al gruppo degli anarchici e verrà anche processato per un attentato di Namitardo di cui poi si rivelerà non aver avuto o almeno così pare dal processo un vero ruolo e più tardi aderirà al comunismo e all'internazionale socialista dopo la rivoluzione di ottobre del 1917 quindi è un personaggio che potete collegare dal punto di vista storico ma che insomma ci interessa perché avrà questo ruolo importante questa dichiarazione il neo impressionismo succede qualcosa di nuovo ma se noi usiamo l'espressione post impressionismo in realtà lo dobbiamo a questo personaggio che vedete in foto Roger Fry insieme alla moglie Ellen Coombe in realtà lei non ha un vero e proprio ruolo il ruolo ce l'ha lui Roger Fry appunto nel 1910 organizzerà una mostra collettiva in cui si troverà a mettere insieme una serie di artisti che noi oggi possiamo classificare ma non solo loro come post impressionisti in particolare Roger Fry ricevete l'incarico di realizzare questa mostra alla Grafton Gallery di Londra era una location diremmo noi oggi esclusiva perché in quella galleria già nel 1905 il gallerista e il critico d'arte mecenate Paul Duran-Ruel aveva organizzato una mostra dedicata agli impressionisti quindi questo nel 1905 quindi davvero era un luogo prestigioso ma il nostro Roger Fry dovendo scegliere un titolo per mettere insieme i personaggi che voleva esporre scelse il titolo appunto di Manet e i post impressionisti a dire il vero il termine l'espressione post impressionista lo stesso Fry l'aveva impiegato già nel 1906 in un saggio in cui appunto cercava di mettere a confronto gli artisti che aveva che erano stati etichettati in precedenza con il nome di impressionisti con quelli che invece anche se esponevano con loro anche se avevano esposto con loro presentavano delle caratteristiche di profonda diversità ora la mostra del 1910 tanto per farvi capire quanto sia difficile avvicinarsi a ciò che sembra nuovo ricevette delle critiche violentissime qui ne ho messe solo alcune qualcuno parlava di una produzione di manicomio qualcuno diceva che le opere sembravano quelle di una opere di un erano opere di una pigra e impotente stupidità e l'esposizione era uno spettacolo pornografico o che i lavori esposti erano semplicemente aborti secondo qualche critico le emozioni di questi artisti potevano giusto interessare gli studenti di patologia e gli specialisti di anormalità o potevano essere assimilati a un complotto per distruggere l'intero tessuto della pittura europea come vedete ci si va giù veramente pesantissimi sentite quest'altro presentando il pubblico inglese le opere di Cézanne, Matisse, Serrat, Van Gogh, Gauguin e Picasso Roger Fry distrusse la sua reputazione di critico d'arte per lungo tempo i più gentili dicevano che era matto eccetera 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 insomma come vedete questa è la reazione avete visto però intanto chi sono i nomi degli artisti alcuni degli artisti che facevano parte di questa prima mostra Manet e i post impressionisti Cézanne, Matisse che noi studieremo come artista delle avanguardie in realtà Serrat, Van Gogh, Gauguin, Picasso che per noi sarà il padre del cubismo quindi anche lui un avanguardista ma vi dicevo gli artisti post impressionisti hanno un grandissimo vanto dal mio punto di vista hanno un incarico storico fondamentale che è quello di fare da ponte tra ciò che era successo prima cioè con l'impressionismo e ciò che accadrà dopo cioè quello che svilupperanno poi gli artisti delle avanguardie storiche. Cosa c'è allora di me? Torniamo alla domanda che vi facevo prima certo l'occhio è fondamentale nella nostra vita noi partiamo dai sensi da ciò che possiamo vedere riconoscere e toccare intorno a noi di cui possiamo fare esperienza ma ci sono almeno altre due componenti fondamentali preponderanti nella nostra vita e sono la dimensione razionale pensate quante volte quanta parte ha nella nostra vita il tempo che dedichiamo a ragionare a riflettere a meditare una visione razionale è fondamentale è preponderante dalla fine dell'ottocento in poi anche con i progressi scientifici che nel frattempo si stavano compiendo e poi c'è un'ulteriore dimensione quella emozionale forse l'altra grande dimensione in cui vi sentite in cui vi riconoscete forse cuore e cervello ecco diciamolo così fino a questo momento erano stati in parte se non del tutto escluse queste componenti dal mondo dell'arte e allora occorreva che gli artisti facessero questo passo in avanti che superassero l'idea di rappresentare in forma istantanea e veloce quello che appariva agli occhi perché questo era ciò che facevano gli impressionisti vi sto mostrando da un po nel frattempo una seconda locandina della seconda mostra dedicata al post impressionismo appunto che verrà fatta due anni dopo 1912 nonostante appunto le critiche feroci di cui vi dicevo prima ma allora chi sono gli artisti post impressionisti non quelli che esporranno alla mostra che vi dicevo prima ma quelli che io vi farò studiare come artisti post impressionisti che possiamo raccogliere sotto questa etichetta vi dicevo alcuni di loro esporranno con gli impressionisti è il caso di josserà appunto josserà insieme a polsignac che è quello di cui vi ho mostrato un attimo fa appunto il ritratto di felife neon saranno gli esponenti che noi chiameremo del neoimpressionismo impressionismo scientifico puntinismo cromoluminarismo ne diremo a sufficienza questo è un altro dipinto di polsignac e loro vedete che hanno esigenza lo capite subito di congelare di dipingere secondo le regole della scienza tant'è che per loro verrà impiegato il termine anche di impressionismo scientifico e da qui noi ripartiremo l'altro grandissimo artista che vi voglio presentare sarà Paul Cézanne anche lui interessato alla dimensione razionale quella che non era tanto interessata al immaginate alla variabilità della luce del colore sulle forme ma anzi si interesserà per tutta la vita a ciò che di costante di fermo c'è in ciò che l'occhio vede quindi qualcosa di più razionale anzi lui dirà la pittura è fatta di due cose ciò che l'occhio vede e ciò che la mente il cervello sa e riconosce quindi vedete che entra con forza in campo la dimensione razionale e poi ancora e anche Cézanne esporrà addirittura nella prima mostra impressionista pensate e poi ancora tra gli artisti post impressionisti vi farò conoscere Vincent van Gogh conosciutissimo celeberrimo ecco è l'unico artista post impressionista che non esporrà mai con gli impressionisti era talmente tanto ai margini anche ai suoi giorni anche nel gruppo dei pittori che poteva aver frequentato per un tempo veramente limitato che davvero non esporrà mai nessuna delle otto mostre impressioniste anche perché olandese arriva a parigi in un secondo momento quindi è un po in ritardo da questo punto di vista nel suo caso sicuramente sarà la dimensione emotiva quella del sentimento dello spazio all'espressività quella più importante per noi lo sapete già lo conoscete anche soltanto per la fama che ha acquisito nel grande pubblico senza averlo mai studiato in modo approfondito l'altro grande artista suo sodale per un brevissimo tempo sarà Paul Gauguin artista che diciamo che metterà in campo sia la componente razionale quella simbolista in realtà e sia la componente emozionale per cui veramente lui avrà un ruolo fondamentale come ponte tra per gli artisti che verranno in seguito in particolare aprirà la via agli artisti dell'espressionismo per l'uso del colore. Ah non vi ho detto una cosa importante Paul Cézanne secondo alcuni storici dell'arte può essere considerato il padre dell'arte contemporanea quella che inizia quella che c'è oggi pensate che se non ci fosse stato l'operato di Paul Cézanne noi oggi non studieremmo Pablo Picasso perché Picasso si esponeva come giovane artista insieme appunto insieme agli altri agli inizi del novecento ma avrà una sorta di grande epifania nel momento in cui vedrà le opere esposte le opere di Paul Cézanne appena dopo la sua morte e poi ancora dicevamo Gauguin sarà fondamentale per gli artisti dell'espressionismo in particolare per Matisse ma non solo e poi un po' un outsider un po' nascosto in realtà nel gruppo non tra i grandissimi o meglio tra i grandissimi ma non tra quelli a cui di solito si dedica più attenzione è questo meraviglioso Henri de Toulouse-Lautrec artista appunto parigino che vivrà nei bassi fondi a contatto con questa vita parigina l'artista che mette in scena appunto il Moulin Rouge le ballerine la vita della mondanità ma anche delle difficoltà che incontrano le persone un po' come aveva fatto se vogliamo in parte nell'assenzio ultimo personaggio che vi presenterò ma è un più uno cioè io di solito dico che gli artisti post impressionisti che faccio studiare sono quattro più uno rifacciamo il giro Cézanne, Van Gogh, Gauguin sono i quattro che ruotano intorno al giro di Parigi poi posso far vedere alcune opere di Signac e magari appunto di Toulouse-Lautrec ma questi quattro sono i quattro di area parigina perché anche se Van Gogh è olandese verrà a Parigi andrà a Parigi e ovviamente il contatto con l'impressionismo comunque sarà fondamentale mentre il più uno quello che io separo dagli altri è il meraviglioso Edvard Bunk norvegese che ovviamente per una formazione molto diversa per una storia personale molto diversa si distaccherà dal gruppo